La tua figlia è uscita. Devono trovarsi un lavoro pulito e sicuro, sti giovani. Cavancellenti. Grazie. I parenti a Torino si sono sistemati. Ce ne possiamo andare. Cioè andiamo come ha fatto mio fratello. Tuo fratello non ti lasciava mai sola. Quando ti ha vista, appena nata, ha detto che eri sua. Papà non ne parla mai. Se le cose non le dici, non ti possono fare male. Nonna. Cosa è successo? Niente, gioia mia. Nel sud è niente. E niente succede. E niente succede. Grazie a tutti.